Allora mamma mia, noi andiamo al centro come c'è in Neapolis, è la prima volta che lo vedo io. Lo sai che l'hanno costruito una galleria bellissima ed è molto bella, è tutta chicosa, tutta sbrilluccicosa. Ma perché non balli? Sì, è... Allora, mi sono zitto, se no magari mi lo vuoi secco, ok? Ok? Hai capito. Allora, prima di dire tutto, è la verità, tu a me mi fai venire l'ondue secco. Amor, hai messo l'aria a vedere la macchina? Cri-cretino, l'olio è dentro la macchina. Ma c'è l'olio è dentro la macchina, ma quando sei cretino, l'olio si fa mettere dentro la macchina. Hai visto? Per stare a seguire, ti ho messo l'olio. Hai visto se... Ma qual è la mia cosa? Quella buona, non è questa vergine. Amor, ma sai che a Neapoli sono fatta una galleria bellissima, ma che ci vogliamo prendere da mangiare? Che ci vogliamo prendere da mangiare? Beh, io ho portato la rampa. E tutta sta roba hai portato, ma è troppo! Ma quello non ho già siamo arrivati, non ho giustato. Mamma, l'ha fatta la mamma. Ma infatti... E non lo dà nei cani. È roba che hanno cucinato i mamma ai cani. È giusto, povere bestie. Eh, infatti, e falla buttare nel cestino, mamma. Quando siamo arrivati, perché hanno giustato la strada, mezzo a mezz'ora siamo arrivati. Ma, eh, ma lo sai che io ho visto che c'è una spia accesa, ma non so da quando è accesa. Eh, ma è accesa da massimo una settimana. Ha finito? Vuoi da? Va bene a girare cinque giorni. Va bene a girare un mese. Yeah, è restato un anno che è accesa. Sì, ma io la macchina la conosco, la conosco, sì. Ci arriviamo fino a me. Finalmente. Va bene, ma fai come a me. Lascia l'accesa questa spiglia. Sì. Fai come a me. Guarda, guarda, è uno. Self-code. Ma io non so perché mi fai... Tu devi sempre litigiare con tutti. Mi fai venire sempre lontuosseco quando andiamo a camminare, ma io non lo so. BASTA SETTO! Ma scusa. Ah, sono quattro di loro. E sono uno. Uno, mezzo. Uno, mezzo. Vedi, ma io non so perché lui si deve sempre litigiare con tutti. Cioè, io volevo passare una bella giornata al centro commerciale di Amoris. No. Lui si deve sempre litigiare. Si dobbiamo prendere sempre lontuosseco. Non so perché tutto lontano. Spesso.